Umberto Brindani, direttore di Oggi, che saluto nel collegamento da Milano. Buonasera direttore. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Vediamo subito la copertina di Oggi, che questa notizia, Loredana ha lasciato al Bano. Questo il titolo, qui c'è anche Marta Flavi, benvenuta, Giannetto Regassani, che è un'avvocata di matrimonialisti italiani, Rita dalla Chiesa, amica di Albano. E madrina di Jasmine. E madrina di Jasmine, quindi molto vicina alla famiglia. Allora direttore, non ho visto punti interrogativi, quindi certo. I punti interrogativi sono, in questo caso erano inutili, perché la notizia, voi l'avete benissimo, avete fatto un bellissimo riassunto del nostro pezzo ed è esattamente così, insomma. Quindi le cose sono andate così. Da più di un mese Loredana Leciso vive lontano da Cellino, dove ha vissuto tra alti e bassi negli ultimi 18 anni e ha deciso di allontanarsi dalla casa dove vivono tuttora i suoi due figli, i figli che ha avuto con Albano, per tutti quelli che ho chiamato in copertina i dispetti di Romina, insomma. Perché il titolo completo di copertina è Loredana ha lasciato Albano per colpa di Romina. Quindi, perché il titolo completo di copertina è Loredana ha lasciato Albano per colpa di Romina. Quindi, perché il titolo completo di copertina è Loredana ha lasciato Albano per colpa di Romina. Per colpa di Romina. Per colpa di te, ecco qua. Il sole è Loredana ha lasciato Albano per colpa di Romina. Per colpa di te, ecco qua. Il titolo completo di copertina è Loredana. Per colpa di te, ecco qua.